Sì, la sua, la sua, la sua, la sua, la sua, la sua, la sua. Emozionante è partecipata la giornata svoltasi a Sassano presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dedicata alla prevenzione del fenomeno del bullismo. L'appuntamento organizzato in collaborazione con la Banca del Cilento, di Sassano e Vallodidiano e della Lucania ha visto la partecipazione di illustri relatori e le conclusioni di Monsignor Antonio De Luca Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro. Presente all'incontro anche una qualificata rappresentanza delle forze dell'ordine valdianesi. Il convegno di oggi, che veramente con orgoglio ospito nell'Istituto Comprensivo di Sassano, con la presenza delle autorità civili, religiose, dirigenti scolastici, si inserisce in un percorso che la nostra scuola ha già cominciato da qualche anno. Per quello che riguarda la prevenzione e anche il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Quindi i nostri ragazzi dovunque andranno avranno consapevolezza di comportamento civile e sapranno essere d'esempio e aiuto agli altri. Il bullismo non è altro che una violenza su soggetti più deboli. E la cosa che mi fa piacere sottolineare è che nei nostri istituti scolastici, questo vale per Sassano ma vale un po' per tutti gli istituti scolastici dell'area del parco, ci sia una grande attenzione anche da parte dei docenti e quindi che segnalano immediatamente possibili episodi di violenza. In particolare grazie all'onorevole Maria Ricchiuti per tutto il lavoro importante e significativo che sta facendo proprio sul tema del bullismo. La regione Campania da maggio dell'anno scorso, l'Uranninità, ha approvato una legge sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. è stata una delle prime regioni ad intervenire in materia proprio perché ci rendiamo conto che è un fenomeno generazionale ma culturale soprattutto. Quindi questa legge non ha un intento punitivo o poliziesco ma ha una forza educativa. È un fenomeno particolare quello del bullismo, particolarmente sentito e particolarmente attuale. Anche se quello che oggi accade non riguarda solamente le giovani generazioni nelle scuole ma anche un certo tipo di bullismo economico che le banche di credito cooperativo cercano in ogni modo di combattere. Difatti noi cerchiamo come banche di credito cooperativo di essere più forti ma soprattutto di essere a tutela di quelle che sono le fasce più deboli. Bene fa la scuola a tenere questo tema in molta evidenza. Io in particolare anche come presidente della comunità montana l'anno scorso ho cercato di mettere insieme tutti i dirigenti scolastici per far sì che si potesse presentare un progetto insieme in modo tale che il nostro territorio potesse passare da territorio di esperti a territorio esperto in questa materia.